Conf Commercio, CNA e Cooperativa Alberghi non ci stanno, non sono disposte a subire passivamente le imposizioni dell'amministrazione comunale sulle modifiche recenti alla mobilità che prevedono ulteriori parcheggi a pagamento. Per la seconda volta, hanno scritto le associazioni di categorie in un comunicato congiunto, sono state prese decisioni che riguardano e influiscono pesantemente sugli operatori economici della città, senza che nessuno abbia concertato quantomeno discusso il progetto. In assoluta incoerenza, proseguono, l'assessore Tonnelli disegna futuristici cambiamenti della viabilità e poi alla prima occasione, anziché elaborare interventi di nuovi parcheggi o di quelli scambiatori per aumentare il numero di posti auto, cresce il numero di stalli a pagamento e allo stesso tempo i costi delle soste. Questo significa danneggiare inevitabilmente il commercio, in particolare quello del centro storico, già in forti difficoltà. L'assessore, si legge nella nota, evidentemente non conosce il termine concertazione, non partecipa ai lavori democratici e soprattutto all'arroganza di imporre le proprie decisioni. Ad essere preoccupati non sono soltanto i commercianti del centro, ma anche gli operatori turistici della zona mare, che si vedranno di punto in bianco vedere realizzata un'area stagionale soggetta a parchimetro. Chi saranno, chiedono le associazioni, quei bagnini o albergatori disposti ad effettuare investimenti per migliorare le proprie attività dinanzi a tale miopia? Tutto questo, concludono nella nota, è stato fatto nel momento più delicato per il commercio, facendoci pensare quindi che chi sta dietro queste comunicazioni e queste scelte non ha la più pallida idea della differenza tra governare una città o amministrare un condominio. Grazie a tutti.